Il mercato contadino Perugia di Campagna Amica Il mercato a Perugia della Coldiretti dove qualità, eccellenza e gusto si incontrano per offrire i prodotti della nostra terra a chilometro zero dal produttore al consumatore Il mercato contadino Perugia di Campagna Amica resta aperto per il periodo delle feste tutti i giorni offrendo dalla frutta alla verdura, dai salumi ai formaggi di latte vaccino o pecorino dalle farine ai prodotti da forno dalla pasta artigianale alla carne dalla chiarina al maiale, agnello allo zampone per capodanno da gustare insieme alle lenticchie pregiate dal latte al miele dalle confetture allo yogurt dall'olio alla birra, al vino Il mercato, aperto tutti i giorni sotto le feste natalizie vi aspetta con la sua qualità per la vostra spesa per fare un regalo gradito una strena che ha il sapore di chi lavora la terra e ha la forza di portarlo sulle vostre tavole agricoltori, aziende agrarie, produttori, allevatori insieme per garantirvi sempre il piacere di mangiare sano nella filiera cortissima dell'agroalimentare dal produttore al consumatore e questi sono i nostri auguri di buon Natale di buone feste e anno nuovo il mercato contadino Perugia via Madonna Alta 122 dal nostro latte ai nostri formaggi tanti auguri dal caseificio Trinei dall'orto del Minonno i prodotti d'eccellenza tanti auguri di buon Natale da Norcia con furore con i nostri prodotti eccezionali di alta qualità vi auguriamo buon Natale i gombi per la parmigiana sono a chilometro zero buon Natale a tutti buon Natale buon Natale a tutti buon Natale a tutti buon Natale a tutti e buon Natale se nel